Buon giovedì 6 gennaio, giornata dell'Epifania. I magi, che vengono da terre lontane, sono i pagani, che portano doni e si fanno guidare da una stella, in un cammino difficile. Si aprono, pur essendo pagani, all'accoglienza del messaggio di salvezza. Sono maghi, astronomi, fisici, studiosi, matematici. Non appartengono al popolo eletto, al popolo santo. Vengono da lontano, da terre lontane. E immediatamente un grande turbamento scuote Gerusalemme. Re Erode è intimorito dall'annuncio della nascita, ha paura. Un vento, uno scuotimento, turba profondamente la coscienza del potere. Una sorta di terremoto. Il commento al Vangelo di oggi del monastero di Bose sottolinea come il verbo che viene utilizzato per rappresentare il turbamento di Erode e dell'insieme dei sistemi di potere del tempo, costituito dai sacerdoti del Tempio, dagli scribi, dai dottori della legge. Tutti profondamente alleati in una istanza di conservazione che non vuole accogliere quello scuotimento, quel terremoto, stesso verbo, che si ritrova poi anche nei momenti fondamentali del percorso del messaggio di salvezza. È il terremoto della croce. Grande scuotimento. Il terremoto è il terremoto che viene sentito al sepolcro. Parla sostanzialmente di un grande turbamento. E i magi, le genti che abitano questa terra, sono il luogo di accoglienza del messaggio di salvezza e sono i magi, persone in cammino, pellegrini su questa terra e rispecchiano perfettamente il peregrinare dei pastori ai quali viene annunciato l'avvento del Signore, del Figlio dell'uomo, del Figlio di Dio, che Maria ha deposto sulla mangiatoia, perché non è un suo possesso Gesù, ma viene attraverso lei per essere presentato alle genti del mondo, che sono guidate dai segni dei tempi. Ecco, i magi ci parlano di questo. Vengono invitati da Erode a indicare il luogo nel quale vi è il Salvatore. Erode lo vuole uccidere e se non lo troverà, ucciderà tutti i nati sotto i due anni, disposto a una strada degli innocenti, pur di conservare il proprio potere. Guardate, questo non ci parla di un evento da museificare nella storia dell'umanità, parla di noi, della nostra indisponibilità ad accogliere il messaggio di salvezza, mentre i magi si fanno guidare dalla lettura dei segni dei tempi, da quella stella, da quel messaggio che poi li invita a cambiare strada e accolgono quel messaggio. Cambiando strada, non obbediscono alla suggestione del potere, non torneranno da Erode, perché sono in ascolto della coscienza collettiva, della coscienza cosmica, accolgono pertanto il messaggio di salvezza e fanno un gesto molto concreto che tutti noi dovremmo fare recandoci alla capanna. Tornare indietro o meglio, tornare per altra strada, perché questo rappresenta simbolicamente la dimensione della conversione autentica, che significa cambiare rotta insieme, decidere un cammino diverso, di fronte alla seduzione di un potere che ci vuole immobili, difensori dell'esistente, indisponibili ad accogliere la dimensione molteplice delle culture e delle genti. Il messaggio non è rivolto soltanto a un credo religioso. Il messaggio è destinato a tutte le genti che abitano la Terra, alla biodiversità che caratterizza la vita su questo pianeta. E ognuno è chiamato ad accoglierlo disponendosi in una dimensione trasformativa, peregrinante, a partire dall'umiltà dei pastori e poi passando anche attraverso il desiderio di conoscenza che caratterizza questi maghi e studiosi, che con grande umiltà, la stessa umiltà dei pastori, ascoltano, obbediscono a quella voce che li invita sostanzialmente a convertire la rotta, a cambiare. Hanno portato i loro doni, hanno visto il bambino e illuminati dalla istanza di conversione cambiano cammino. Allora la domanda che dobbiamo porci oggi, la festa della Befana, dell'Epifania, festa un po' pagana anche, ma festa anche intensamente significativa sul piano della fede, delle religioni, non di una singola religione. Ebbene, in questo giorno apriamoci alla luce che illumina la tenebra e ci invita a essere protagonisti, obbedienti e responsabili di fronte a un messaggio di salvezza che ci è stato donato e ci chiede un percorso trasformativo lontano dal possesso e dal potere, intriso della dimensione dell'amore e dall'amore per la giustizia sociale. È un invito alla rivolta nei confronti delle nostre istanze conservatrici, predatorie, antropocentriche e antropocratiche. Non siamo i dominatori della Terra, siamo pellegrine transitanti che accogliendo il messaggio di Gesù si dispongono a una condivisione tra tutte le genti, soprattutto con quelle che sentiamo più lontane, per condividere insieme la bellezza e il mistero della vita. Buona giornata a tutti.